Benvenuti a questo primo convegno giuridico internazionale dell'Avvocatura Italo-Russa organizzato dall'Associazione Puglia-Russia grazie ad una proficua collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Foggia e l'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo che hanno patrocinato questo evento. Un saluto agli Avvocati italiani e russi che ci seguono, agli ospiti, ai relatori, agli interpreti, a tutti coloro che seguono questo webinar sia dall'Italia che dalla Federazione Russa. Devo dire che questo è un debutto, debutto sia da parte dell'Associazione Puglia-Russia che ai più potrà risultare nuova. Ci sono molti Avvocati che fanno parte dell'associazione, quindi un po' ve la presento. L'Associazione Puglia-Russia è stata fondata da me un tredici anni fa con l'intento di creare relazioni positive tra l'Italia e la Federazione Russa. Per far conoscere in Italia meglio tutto quanto concerne la Russia, viceversa per far conoscere la Russia ed in particolar modo la nostra Puglia in Russia. Avendo come Presidente un Avvocato ho costituito quindi una commissione giuridico-scientifica proprio per, con il compito di realizzare degli incontri di studio, di studiare i rispettivi sistemi costituzionali, legislativo, giudiziari per scambio di esperienze lavorative connesse ai problemi dell'Avvocatura per collaborazioni professionali. Io voglio augurarvi che in futuro con il supporto dell'Associazione Puglia-Russia possa svilupparsi ed intensificarsi una proficua collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Foggia e l'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo per acquisire una reciproca e più approfondita conoscenza dei rispettivi sistemi giuridici in ottica di crescita professionale. Bene, io voglio ringraziare in particolar modo il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, l'Avvocato Gianluca Ursitti, per la sua estrema disponibilità e gentilezza, per aver dato il suo appoggio a questa iniziativa e ovviamente da controparte anche il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo, l'Avvocato Evgeni Vasiljivic Seminaco. Vi presento i relatori di oggi, gli ospiti di oggi. Oltre ai due Presidenti abbiamo l'Avvocato Vita Antonio Altamura, che è Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tarato. Poi abbiamo l'Avvocato Luigi Leo, che è Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Poi l'Avvocato Irina Tumanova, che è Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo. L'Avvocato Marina Martinchievic, che è Avvocato e Professore Universitario presso l'Università di San Pietroburgo, e il Dottor Gugliotti, che è assistente cultore della materia di diritto penale presso l'Università di Bari. Devo ringraziare particolarmente il Dottor Gugliotti, che è stato lui che mi ha dato l'input, la sua collaborazione, ha permesso appunto poi di realizzare questo evento, mi è stato accanto nella progettazione e organizzazione di questo evento. Bene, l'argomento di oggi tratta profili di comparazione tra sistema italiano e sistema russo nella responsabilità penale d'impresa. È un argomento molto interessante, devo dire che, benché la relativa disciplina sia ormai in vigore da 20 anni, è stato poco trattato questo argomento. Infatti il riferimento normativo base è il decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, che ha introdotto il principio della responsabilità penale sia forniti di personalità giuridica anche di quelle associazioni e società prive della stessa, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Però non voglio entrare nel merito perché sentiremo particolare i nostri relatori, ci parleranno appunto in modo più dettagliato. Quindi al momento non vedo ancora le nostre colleghe della Russia, non vedo collegate. Spero che si colleghino quanto prima. Io darei... L'Avvocato si è collegato. Ah, perfetto. Io a questo punto darei la parola al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, l'Avvocato Gianluca Cursitti, per i saluti istituzionali. Sì, buonasera a tutti. Grazie Giovanni. Sono io che tu hai ringraziato noi dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, ma sono io in realtà che ringrazio te. Per la verità non conoscevo, se non qualche tempo fa quando me ne hai parlato, questa associazione. Devo dire che ho molto apprezzato e l'ho trovato un'iniziativa veramente interessante. Non ti nascondo che mi sarebbe piaciuto che questo convegno si fosse svolto dal vivo. Questo vale un po' per tutti i convegni, ma per questo in particolare sarebbe stato particolarmente interessante per tutto quello che il background, non solo organizzativo, ma per lo spirito che vi ha mossi. Io, a nome degli Avvocati di Foggia, vi dico che noi siamo disponibili a queste iniziative, perché queste iniziative intanto fanno cultura e poi perché no, ogni scambio è un arricchimento innanzitutto culturale, ma di ogni genere. Fatemi salutare e ringraziare il mio collega di San Pietroburgo, che saluto. Fatemi anche ringraziare tutti i relatori. So quanto è complesso e quanto sacrificio importa l'organizzazione di un convegno, anche quando si fa una relazione. Ne ho fatte tante e so quanto è complicato mettersi a lavorare e rinunciare al tempo libero o al proprio lavoro per fare questo. Naturalmente ringrazio anche il CINFOR per la piattaforma e per la disponibilità che ci offre sempre. Il tema è molto interessante, lo statuto penale dell'impresa italiana diventa sempre più complesso ed articolato e involge, come dire, i profili più disparati da quello strettamente societario, a quello fiscale, a quello ormai connesso al riciclaggio e dal 2015 anche all'autoriciclaggio, all'infortunistica sul lavoro. Insomma, la complessità aumenta quando ci si confronta anche con chi opera sul mercato estero, oppure quando una società estera opera in Italia, diventa ancora più interessante perché l'analisi dei profili comparati è utile perché dallo studio e dalla comprensione dei fenomeni si arriva alle prassi applicative ed anche alle stesse distorsioni che le prassi applicative possono portare e anche dall'analisi di questi fenomeni nascono soluzioni, talvolta, perché no, anche De Jure Condendo e le associazioni servono anche a questo. Ma voi non siete qui per ascoltare me, ma per ascoltare i relatori, per cui io non vi faccio perdere tempo, vi saluto, vi ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente. Bene, io vorrei, a beneficio di chi ci ascolta dalla Russia, vorrei ripetere gli stessi concetti che ho detto pocansi in lingua russa. Здравствуйте, добрый день, дорогие коллеги Российской Федерации. Добро пожаловать. Grazie. 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 quindi l'associazione Poliorussia è una internazionale culturale con la comunità dell'Italia e della Russia, che ci sono stati anche in Italia e anche in rossi. La associazione è stata creata 13 anni fa per cercare di conoscenza con l'Italia e con l'Italia. La associazione è stata creata con l'Italia e conoscenza con l'Italia e con l'Italia. Io voglio sperare che nel futuro con l'Associazione Poli-Rossi la collaborazione con l'advucato Foggia e Sankt-Petersburg si possa creare la propria sistema e la sede del professionale. Il tema di questa conferenza è una caratteristica dell'Italia e dell'Associazione Poli-Rossi in sede della scuola e dell'Associazione Poli-Rossi e questa è un'interessante tema. L'Italia è già presente nel 2020. Il legno del decreto è il decreto dell'Associazione Poli-Rossi e l'anno 2021, numero 231. Il legno del decreto è stato presentato un'interessante di un'interessante. Il legno dell'Associazione Poli-Rossi e il presidente dell'Advokato. I Grazie. L'Avvocato Vito Antonio Altamura vuole iniziare la relazione? È stato un piccolo problema di connessione. Sì, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Nel portare i saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, Federico Moretti e di tutti i consiglieri, mi appresto ad illustrare brevemente le linee guida del Decreto Legislativo 231 del 2001 e per fare ciò ho bisogno di incominciare dalla fine del secolo scorso, quando i legislatori internazionali cominciarono a verificare che i continui cattivi esempi di amministrazione della cosa pubblica travolgevano oramai contesti societari nazionali e mondiali per cui gli stessi legislatori furono portati ad adottare specifici sistemi di controllo interni alle aziende e studiare la possibilità di configurare una responsabilità penale dell'ente che andasse ad associarsi a quella della persona fisica autore materiale dell'illecito. Il legislatore italiano, così facendo, adava ad integrarsi nel progetto internazionale di compliance, ovvero rispetto delle normative interne ed esterne alla società, esterne leggi e regolamenti, interne procedure direttive e manuali. Con l'introduzione del decreto numero 231 del 2001 vi sono stati positivi risvolti in tema di corporate governance per la funzione di prevenzione e contrasto ai vari reati. La responsabilità coinvolge il patrimonio dell'ente e indirettamente gli interessi economici dei singoli soci. Il decreto in pratica istituisce la responsabilità amministrativa dell'ente esclusivamente per i reati posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La società, per così dire, può delinquere, grazie e da seguito dell'incremento ragguardevole dei reati dei cosiddetti colletti bianchi, che di fatto avevano prodotto un sopravvanzamento della illegalità d'impresa sulle illegalità individuali. Il decreto prevede una responsabilità diretta della società per la commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente ad essa legati e statuisce l'applicabilità nei confronti della stessa società di sanzioni amministrative, che vi assicuro essere molto pericolose per lo svolgimento dell'attività sociale. È una responsabilità che associa il sistema penale con quello amministrativo, dove l'ente risponde di un illecito penale ed è punito con una sanzione amministrativa. Importante è che la responsabilità amministrativa dell'impresa è autonoma e si aggiunge e non sostituisce a quella della persona fisica che ha commesso il reato. Quella stessa responsabilità, infatti, è accertata nell'ambito di un procedimento penale, dove il pubblico ministero è l'autorità competente a contestare l'illecito ed il giudice penale è l'autorità competente ad irrogare la sanzione. Il presupposto per la responsabilità della persona giuridica quindi è nel collegamento con il soggetto autore del reato. La colpevolezza dell'ente consiste, o meglio, la colpevolezza dell'ente non viene identificata con la stessa colpevolezza delle persone fisiche, ma consiste in un deficit dell'organizzazione rispetto ad un modello, attenzione a questa parola, rispetto ad un modello di diligenza esigibile della persona giuridica nel suo insieme. Onere della prova è a carico dell'autorità giudiziaria, ovvero è l'accusa a dover dimostrare la cosiddetta colpa di organizzazione. Ai fini dell'affermazione della responsabilità della persona giuridica occorre uno specifico legame fra il reato commesso ed il comportamento dell'ente. Il modello di organizzazione dell'ente. A questo punto diventa fondamentale per la tutela dello stesso ente dinanzi a comportamenti dei propri dipendenti penalmente rilevanti a norma del decreto legislativo 231 del 2001. All'interno del decreto, l'articolo 6 a comma 2 lettera B disciplina i modelli di organizzazione dell'ente. Detti modelli consistono in protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire. In pratica il modello è un insieme di regole, strumenti di controllo e regole di comportamento, con il compito di prevenire e gestire il rischio reato a tal punto che il decreto prevede la necessità di verifica periodica quando vi sono violazioni delle prescrizioni contenute nello stesso modello o quando vi sono mutamenti nella struttura societaria. Prevede inoltre l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. I reati sono tutti descritti negli articoli 24 e 25 del decreto e dall'articolo 10 della legge 146 del 2006 che ha introdotto i reati transnazionali. In particolare ha ratificato la Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale prevedendo dei delitti associativi con tali caratteristiche. Gli altri reati, giusto a titolo di esempio, sono la corruzione, la confusione, la frode ai danni dello Stato, il falso in bilancio, l'omicidio colposo, le lesioni gravi colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche reati di terrorismo, riduzioni in schiavitù, reati ambientali. Insomma, un modello operativo ben redatto impedisce efficacemente la commissione dei reati suddetti e comunque è una possibile esimente delle sanzioni imputate alla società. Quali sono queste sanzioni? Sono la chiusura anche temporanea dello stabilimento della sede commerciale la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o connessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività, il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti o addirittura la revoca di quelli già concessi, il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni o servizi. Sono previste anche due ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, che sono i casi di particolare tenuità del fatto o la realizzazione dell'efficace riparazione o reintegrazione della offesa realizzata. Perciò la definizione, possiamo dare una definizione del modello di organizzazione e controllo in questo senso, e cioè la predisposizione degli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della società, proteggere la salute e la sicurezza delle persone, gestire efficacemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La realizzazione del modello è caratterizzata da sei distinte fasi operative, che sono individuazione delle aree a rischio, realizzazione di protocolli operativi, istituzione dell'organismo di vigilanza, di cui poi vi parlerò brevemente in maniera un poco più approfondita, predisposizione di un codice etico, predisposizione di un sistema disciplinare, diffusione del modello organizzativo. Una ben definita identificazione delle aree a rischio presenti nelle imprese presuppone tre fondamenta, analisi interna dell'ente, valutazione del rischio reato e analisi del sistema di controllo preventivo. Conseguentemente, un sistema di controllo preventivo efficace esclude la possibilità che soggetti possano affermare di non conoscere le direttive aziendali. Il riscontroll proprio del decreto legislativo prevede poi la definizione di attività a rischio, l'analisi dei rischi potenziali, la costituzione dei controlli preventivi, la valutazione dei rischi e la revisione dello stesso modello da sottoporre a verifica di bilancio. Senza un modello efficace, in pratica, l'ente è a rischio di sanzioni gravissime. Prima di lasciare la parola agli altri relatori, mi preme fare qualche considerazione sull'organismo di vigilanza, in carico che io ricopro in alcune società. Adesso, infatti, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e costituisce un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità dell'ente. I componenti sono scelti tra soggetti esterni o interni alla società, dotati di adeguata esperienza professionale in tale ruolo e non sono subordinati al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. L'organismo di vigilanza per esercitare i propri autonomi poteri di iniziativa e controllo è dotato delle risorse necessarie e ha facoltà di chiedere e assegnare a terzi in possesso di competenze specifiche compiti di natura meramente tecnica. Esso è nominato con delibera del Consiglio d'amministrazione o dell'organo di gestione della società e da una serie di cause di ineleggibilità o decadenza tipo condanna per reati imprevisti dal Decreto Legislativo 231 del 2001, condanna appena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, condanna per delitto non costoso superiore a due anni, incompatibilità sopravvenuta o conflitto di interessi. I membri dell'organismo di vigilanza sono tenuti a segnalare l'intergenza di una situazione di conflitto di interessi, mentre la eventuale revoca dell'incarico potrà avvenire solo per giusta causa e previa delibera del Consiglio d'amministrazione sentito il parere del collegio sindacale. L'organismo di vigilanza quindi vigila sull'efficace attuazione del modello al fine di assicurarsi che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano alle regole poste a prevenzione dei reati. Monitora il mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità del modello, sempre rispetto alle esigenze di prevenire e verificarsi dei reati previsti dal decreto, promuove l'aggiornamento del modello e dei relativi presidi di controllo conseduenti agli eventuali mutamenti organizzativi o normativi. Cosa molto importante è che nello svolgimento dei compiti assegnati l'organismo di vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di verifica, analisi e controllo. Infatti, qualunque funzione aziendale, collaboratore o amministratore, ha il dovere di evadere in modo esaustivo e tempestivo eventuali richieste che dovessero avvenire dallo stesso organismo. Ora, Giovanni, io avrei completato questa prima parte che avevo anche concordato con l'avvocato Gugliotti. Va bene. Resto ad ascoltare il seguito e con molto volentieri. Va bene. Grazie. Grazie per l'intervento. Ora, se è in linea all'avvocato Semignacco, jezli advokato Semignacco budget nazviarsi, io хочу, che on si chas gavarit. L'avevo visto prima in linea. No. Eriina, c'è l'avvocato Semignacco? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Calvo che si è venuto che avvicinò dopo l'avvocato il viaggio è venuto l'avvocato Seminaaro l'avvocato Grazie. Come l'avvocato deve tornare a poi mi e poi va parlare. La ho parlare quando l'avvocato avvocato del l'avvocato il si è venuto di non Ma ora non ci sono risposto, speriamo che ci vedremo. Bene. Adesso, Irina, adesso c'è in linea la dottoressa Antonella Selvitella? Sì. Benissimo, Antonella. Allora, cortesemente vorrei tradurre in russo l'intervento dell'avvocato Altamura. Perfetto. Buongiorno, adottoressa Antonella Selvita. Perfetto. 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 di gestionare per la realizzazione del progettivo. Tretto, anche il momento di distruggimento di domenica. Tretto, anche il momento di spiegare il progettivo per l'administrazione del progettivo pubblico. Tretto, il momento di esclusione del progettivo dell'innovazione e l'innovazione e l'innovazione già predostavati. 6. Vremmo è anche il tempo di reclamo di товare o l'innovazione. Sglanzo con stranica 6, paragraf 2, bukva B, ZD231.01, organizzazione modelli состоjati da protocolli, napravlenni na planificazione e formazione e realizzazione di risposta. Napravlenni na predatvrašenje, savršenja, prestopljeni, konkretno ukazani v zakone, sazdanje sistemi organizacij in kontrolja, karakterizujoce šestju aldenimi operacionnimi fazami, a imena, pervi, viajavlennie zon riska, tero, внedrinie operacionnich protokolli, teri, создanje nazarne organa, četvjorti, podgatavka etičeskavo kodeksa, piati, podgatavka disciplinnoj sistemi, in šestoj, acengarijska prestupnost, analiz sistemi preventivnevo kontrolja. Zgledovatelno efektivna sistema preventivnevo kontrolja izključajte vazmožnost tvoj, što subjekti mogu zajaviti, što ne znajo direktiv kampanji. Kontrol riska specifični dla zakonodateljnoho dekreta 231.01, predusmatrivate prvi, opredelenie deteljnosti poddživonni risku, tero, analiz potencijalnih riskov, tero, ustanavljenje preventivnevo kontrolja, četvjorti, acenka riskov i, nakaniec, pjati, perizmotri toježe modeli dla finansovi atčotnosti. Spasiva za vnimanje, pristite za preznašenje, v mene, koniešno, šipki, no, ja nadeju se, što bolj ili menje od koncept bilo jazno. Terminato, Antonella? Grazie, granca, Antonella. Va bene, grazie. Per caso, je tornato l'avokato zlučajna, jesti na zvijasi advokata Semnjaka? No. Allora possiamo proseguire, proseguiamo con l'avokato Luigi Leo. Carissimo Luigi, ti cedo la parola, puoi andare con il tuo intervento. Ringrazio organizzatori, relatori e partecipanti al convenio. Vi dico subito come la penso. Questa je una legge che dovrebbe essere immediatamente bocciata, perché è una legge che nasce con tutti i migliori ospici, quello soprattutto di combattere la criminalità organizzata, i reati commessi dai colletti bianchi, si viene poi amalgamata in regole che processualmente sono tra loro incompatibili. È una legge che nasce con il governo Amato nel 2000 ed entra in vigore col governo Berlusconi, il quale resta in carica appunto dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Ma qui non è un problema di governi, qui è un problema di assenza di veri giuristi, perché è difficile concepire che questa legge deve seguire le norme processuali del codice di procedura penale e poi si ingarbuglia in una serie di principi tra loro incompatibili. Come si può pensare di rendere compatibile l'onere della prova a carico del pubblico ministero per ipotizzare i reati a carico delle persone fisiche? E come allo stesso tempo si possa immaginare che a carico dell'en ci debba essere un onere della prova a carico dell'ente che tutto sommato si ridurrebbe a presentare un modello organizzativo tale da far comprendere che probabilmente non è colpa dell'ente, non è responsabile l'ente se un suo capo, se un suo legale rappresentante commette reati. e come può concepirsi in un processo penale la responsabilità personale del reo alla responsabilità della persona giuridica che ha considerato che nella nostra Costituzione non esiste una responsabilità a carico di persone giuridiche, ma soltanto la responsabilità penale e personale. come è possibile concepire che in una legge del genere siano compatibili il dolo per ipotizzare i reati a carico dei singoli e la colpa a carico dell'ente? Come si può immaginare che se un soggetto all'apice di un ente commetta, agisca nell'interesse e avvantaggio dell'ente, l'ente per il semplice fatto di presentare un sistema organizzativo possa farla franca. Come è immaginabile che ci si possa costituire, che il legale rappresentante possa costituirsi parte civile nel processo penale, ma possa anche avere la qualità di responsabile civile. E guardate, l'ultima chicca è che a differenza del procedimento penale il pubblico mistero in questo tipo di procedimento è lui stesso che decide di archiviare. Cioè, mentre nel processo penale ordinario, nel procedimento penale ordinario il pubblico mistero chiede al GIP di archiviare. Qui è il pubblico mistero che con decreto motivato decide di archiviare senza passare attraverso il controllo di nessuno, soltanto ne dà comunicazione al procuratore generale. Come vedete, come è possibile combattere la criminalità organizzata che si insinua nelle aziende, soprattutto le multinazionali, per combatterla. È tanto vero questo che dal 2020 i processi che sono disciplinati da questo sistema sono completamente scemati. Cioè, mentre all'inizio vi è stata un'impennata di procedimenti penali, poi la giurisprudenza, la Cassazione soprattutto, ha dovuto fare i conti con i principi e i processi penali che erano stati intentati seguendo le regole di questa legge hanno dovuto alzare le braccia in segno di resa perché non è possibile che più principi amministrativo, civile e penale possano convivere tra loro. Questo è un procedimento che sia il Pubblico Ministero, sia la Polizia Giudiziaria e sia i giudici decidono affidando l'incarico a propri consulenti. Il Pubblico Ministero conferisce incarico a un consulente e se il Pubblico Ministero esercita l'azione penale nei confronti del lente, il giudice nominerà i suoi feriti per risolvere le valutazioni di natura tecnica. Come vedete è un processo che è affidato non ai giuristi, è affidato unicamente alla preparazione di tecnici multidisciplinari in questo senso e la ragione che questa legge abbia fallito rinviene dal numero dei processi che sono in corso, pochissimi. Consideriamo che sul nostro territorio essendo un territorio soprattutto agricolo dove le multinazionali non sono affatto istituite in zona e naturalmente è una materia ostica, lo dimostra la relazione della collega che mi ha preceduto ed è non è ostica soltanto perché è complessa, è ostica perché contrasta con tutti i principi che dovrebbero rendere rendere compatibile e armonizzare un procedimento di questo genere. Per cui concludo dicendo che questa legge va assolutamente abrogata e va rimodulata in maniera diversa. Altrimenti non avrebbe senso e non riuscirebbe mai a colpire nessuna criminalità organizzata e nessun reato di particolare spessore. Grazie Avvocato Luigi Leo. Ora se la Dottoressa Seguitella vuole tradurre in russo per chi ci ascolta dalla Russia l'intervento dell'Avvocato Luigi Leo. Advocato Luigi Leo ha padronato di Cassazzi ha parlato di la nostra tematica di riusci di italiani e russi sistemi in corporativi e uglosini e attività di attività di attività di attività di attività attività di organizzatori e spessi e attività di attività di attività in questione 231-2001 è la città di amministratività di responsabilità di campagna. Sudebna polizia e procuratura dovrebbero dare amministratività di responsabilità di campagna, in particolare analizzare bucattorsche e amministratività di documenti, per esempio, finanziarie attività, perché in scuola finanziarie attività di responsabilità la città di amministratività di amministratività. Sudebna polizia e giudastica di amministratività di amministratività di amministratività. di amministratività di amministratività, Sudebna polizia e procuratura raggiungono 1. Savišenie, pristoplenia e uscenavliena lecnosti pravonarushitela, 2. Qualificazione compagnia, che prenavraggono il progetto, 3. Qualificazione scena e istilità valore, Rwooo la razliamentse di carri per avere un ruoco e una pochia, attraverso il corso, attraverso il corso. Poi, attraverso il corso elevato di carri, attraverso il corso. 6. Mnogoprofile consulzioni. 7. Mere pre-assorzioni. 8. Arquivazione. 9. Ossuettività administrativa. 8. Mere pre-assorzioni. 9. Ossuettività. 9. Ossuettività. 10. 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 Ossuettività. 11. 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 Ossuettività. e il ringrazio per l'organizzazione del seminario. Credo che ci sono stati passati. Il ringrazio, il ringrazio per l'organizzazione del seminario. Abbiamo s'entrò s'entrò, s'entrò, s'entrò s'entrò di conferenza. Ora sono ancora in office. Grazie a tutti, Evgenio Vassilievich ha scritto il suo saluto e il piacere. Questa collaborazione, un inizio di collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Foggia e l'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo e spera che appunto in proseguo questa collaborazione si intensifichi e sia più proficua. Se volete, se volete, se volete, se volete, se volete dire qualcosa di più. Giuliano, ha scoperto dopo i vostri parole? Voi ho parlato con le vostre parole, ho parlato con le vostre parole. Io non ho parlato prima, che ho parlato con te, poi ho parlato con te, altrimenti ho parlato prima. Da, ho parlato con me e parlato con le vostre parole. Sì, adesso tu puoi parlare la vostra voce. Buongiorno. Buongiorno. Ora vi presento l'Avvocato Irina Tumanova, che è consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo, e ora ci farà sentire il suo intervento. Pazza, Irina. Io vorrei parlare la vostra voce, e, potrebbe, l'avvocato dovrà parlare dopo questo, o come facciamo? Sì. noi possiamo fare ogni parte, io ho provato. Sì. 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 e ovviamente la nostra collegherina Tumanova e grazie anche al traduttore della nostra conferenza. Credo che questa conferenza darà un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni italo-russe e sicuramente contribuirà a rafforzare l'interazione tra le comunità della Russia e dell'Italia. Grazie. Grazie. D'altra parte voglio ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno partecipato credo che confrontarsi nella sfera giuridica sia doveroso e credo soprattutto che noi russi e voi italiani in un certo senso siamo molto simili per il nostro paese per il nostro paese per la nostra strana e questo è stato fatto a che dopo la scena economica Il nostro paese è stato il primo periodo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Il periodo di 30 anni, per il suo senso è molto 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 molto. Il periodo di contribuire e di rispettere, quindi la tradizione di Italia in questo modo è molto più grande e con i suoi problemi di loro. In Italia sono già ottenuti alcuni punti di rischia e è iniziata la responsabilità per vittorio di business, ma è iniziata la responsabilità juridica. Ma in quanto riguarda la specifiche российского business, in quale vede la responsabilità, l'autorità, 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 l'autorità. E' molto importante quello che la vostra collega russa ha appena spiegato, che, diciamo, c'è stato un proficuo sviluppo giuridico negli scorsi trenta anni, perché dopo la caduta dell'Unione Sovietica anche la sfera giuridica è, diciamo, molto cambiata e molto sviluppata. Quindi da quel tempo in poi, durante questi trent'anni, molte leggi sono cambiate e soprattutto si sono adattate allo sviluppo economico e delle imprese. Grazie. 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 chiede, pagine, ancora, quali sono i straffi, possiamo ancora перечerci, per cui posso перевести? Ok, ancora, io перечerci la направление деятельности, dove predisposte l'autorità. Per i diversi направлениям деятельности, разные straffi e attraverso. Так, per rivagio. È un stato di 10 anni di riuscita la sua libertà. Sì. In diversi Stati. Ma qua, давайте так. Nalogovie, in sferi договорi, in sferi del giudicato, in sferi del giudicato. Poi, poi, in sferi del giudicato. Nalogovie, del giudicato, del giudicato. Per quanto riguarda, diciamo, in un certo senso loro le chiamano multe. Diciamo, o diciamo le sanzioni. Le sanzioni, esatto. Le sanzioni vanno soprattutto nel sistema delle tasse e soprattutto nel sistema dei contratti di lavoro. Spasiba, Dalce? Trudevoio, Zakanadatispa e in sferi di безопасnessi. Tò è, narusione ecologici norme, stradittilne e безопасnessi, paziarne e безопасnessi. E anche in un certo senso nel sistema di sicurezza e nel sistema ecologico ci sono diciamo delle leggi molto severe su questi aspetti in Russia. c'è un'attenzione particolare anche sulla sfera delle finanze. sulla sfera delle leggi che difendono il sistema delle finanze. c'è un'attenzione c'è ovviamente un articolo speciale c'è un articolo che difendono diciamo le sono a favore delle sanzioni in caso ci siano scusate di violazione in caso di violazione quindi le sanzioni in caso di violazione sanzioni, grazie. Ci sono tre tipi di punizioni prima di tutto la multa di 100.000 rubli è oltre, sei anni di diciamo non c'è una libertà assoluta per sei anni di interdizione. E poi come terzo punto diciamo la persona non può non può essere libera al cento per cento quindi ci sono delle cose che non può non può fare. Quindi probabilmente viene penalizzata nel mondo del lavoro come ho ben capito. Cosa dici tu Giovanni? Sì 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 è così appunto ci sono appunto delle interdizioni per costituire eventualmente nuove società nell'intraprendere attività imprenditoriale e economica imprenditoriale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Stati Nalogovicodeksa Predusmatriva Atletzionate Po Nalogovicodeksi E anche Se Organizzazione Ne uplazionate Nalog Za suo Rapportnico E Summa Doстаточно Vysoka E 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 L'intelligenza del genere proprio di lavoro e l'intelligenza della libertà. Sittà la seconda parte, è il fatto di una parola di tesserezza, se si è molto più grande, cioè se è molto più grande, quindi questo è un fatto di tesserezza di tesserezza di tesserezza di tessere anni. 6 anni лишения свободi, se è chiaro. Sì, abbiamo conoscenza conoscenza, ma in realtà è molto interessante, ma come in Russia si chiudeci con le regole. Grazie mille. Это, во-первых, решение налогового органа, второе – это заявление о преступлении любого лица по существу, в том числе и средств массовой информации или постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в правоохранительные органы. То есть налоговая инспекция может вынести решение о привлечении налогоплательщика к ответственности, потом может быть заявление любого лица или в средствах массовой информации, сообщение о совершенном преступлении или постановление прокурора. При этом следователь может возбудить уголовное дело по результатам оперативно-розыскных мероприятий и тоже получается в течение 10 лет после того, как преступление было совершено. То есть получается, что на протяжении длительного времени и достаточно суровая ответственность руководителей компаний в Российской Федерации существует. Ну, будете переводить или нет? Это я сократила. Ну, что суровые виды наказания и ответственность руководителей компании. Детский рынок il proprio procedimento penale e a seguito di questo, quindi è sempre già quello che avevamo detto in precedenza, ci sono poi delle limitazioni nelle attività economiche di chi si rende responsabile di queste violazioni, quindi cominciano tutta una serie di accertamenti fiscali e indagini penali. Il importante è che liceo può essere sviluppato da responsabilità in caso, se si lo spiega il vrede a bюджetto rossi frede, anche per secondi, per difficolti in sferi valori. Per esempio, se si chiudete il budget, si chiudete l'autorità, si chiudete l'autorità, si chiudete l'autorità, si chiudete l'autorità. Una certa somma di denaro che va all'erario pubblico. Se questa persona che ha commesso la violazione paga questa somma all'erario pubblico, quindi viene annullata la sua responsabilità penale. Un po' come un nostro decreto penale di condanna, così come avviene qui in Italia. Si paga una somma di denaro e termina il procedimento penale. Prego Irina. Grazie. 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 Prego Antonella. Grazie a tutti. Ci sono due direttori di due aziende, di due fabbriche. Sì, lei praticamente ha esposto l'esempio del caso in cui ci siano delle truffe, perché Maschenik in italiano significa colui che fa le truffe o inganna, giusto? Sei d'accordo con me? Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, loro hanno dedotto che per il fatto che ci sia stato un cambio di deadline oppure comunque un'informazione errata, anche in questa maniera ci sia stato un caso di Maschenik. Cioè nel senso di truffa. Sì, sei d'accordo Giovanni? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Allora, praticamente questo caso di truffa che c'è stato appunto in questa situazione della Commissione di queste auto in un certo senso era stato valutato da esperti, da procuratori con una pena di sei anni, diciamo, che poi però sono state ridotte a tre perché c'è stata una buona difesa di chi ha praticamente fatto la truffa. Da parte degli avvocati che hanno difeso questi truffatori. E io faccio con il fatto che... ... che rischiavano rischendo da parte della corporezza che funziona anche per l'attività di un'attività, che non può essere solo un'organizzazione, ma solo un'organizzazione, che è stato raffreddato di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. А вот, например, сама firma может перейти к другим учредителям, к другим собственникам, или руководителя могут уволить. ma per questo la partecipazione di attività non dovrà attraversare la compagnia e la loro che non trattano a questo e continuare a lavorare con le compagnie hanno anche un lavoro ma il ruovatore vincitato una casa come ho capito le aziende possono avere degli estamortaggi per non prendere la diciamo la sanzione piena per non incorrere in sanzioni esatto, quindi esistono diciamo dei modi per evadere da queste situazioni magari appunto come in tutti gli ordinamenti esatto sì abbiamo diversi подходi ma è interessante migliorare l'opera e è interessante общarsi con i colleghi trovare interessanti contatti e interagire con l'unico sui problemi che sono che sono rischi, per cui la campagna da l'inizio si funziona bene, senza rischi, o per la protezione se l'obbligo fosse già preso. Grazie, per la visione. Irina Tumanova è molto felice di aver scambiato le sue esperienze con noi e soprattutto ritiene molto interessante dialogare con gli avvocati italiani in quanto facendo questo confronto i cittadini russi che desiderano vivere in Italia e lavorare in Italia e viceversa, cioè gli italiani che desiderano operare nella federazione russa in termini di business, possano grazie a queste conferenze, grazie anche allo scambio di confronto e di informazione, di esperienze professionali, poter non incappare già dall'inizio in errori appunto che possano essere... In violazione di legge. Esatto, violazione di legge. Grazie. Grazie per la visione e per la nuova incontrazione. Grazie. 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 Bene, adesso è la volta di Marina Martinkiewicz. Marina, ti nasviasi? Sì, sì, buona sera tutti. Ciao, buona sera, ciao Marina. Paj'austà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i colleghi italiani e russi per l'organizzazione della prima conferenza Italo-Russo per la possibilità di presentare la nostra conferenza. E separamente ringraziare l'organizzatore della conferenza, il presidente delle associazioni Puglie-Russie, l'avvocato Giovanni Giuliano, la direzione dell'ordine di avvocati di Foggia, anche la camera degli avvocati di Taranto, il personale dell'Università di Bari, separatamente il dottore Claudio Gliotti, inoltre ringraziare la direzione della camera degli avvocati di Città di San Pietroburgo, separatamente il presidente della camera Eugenio Semignaco e il nostro collega Irina Tumanova. E anche grazie alla traduttrice della nostra conferenza Antonella. Credo che questa conferenza darà un contributo precioso allo sviluppo Italo-Russo, di relazioni in generale, e contribuireà a traforzare le internazioni tra le comunità della Russia e dell'Italia. E adesso, per favore, io faccio. Inizio. Тогда, может быть, сделаем так, Антонелла, я, поскольку обширно достаточно материал, сначала расскажу, а потом вы переведете, чтобы так было удобнее. Хорошо? Конечно, конечно. На самом деле у меня тоже несколько материалов, может быть, это то же самое, это вопросы уголовной ответственности. Отлично, да-да-да, это вообще супер, спасибо. Окей. Вопросы введения Института уголовной ответственности юридических лиц в России обсуждался на протяжении более двух десятилетий. В 2011 году органом, представляющим интересы обвинения в России, продвигался проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, в связи с введением Института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. При обсуждении подобного законопроекта сразу же появились неоднозначные мнения, как тех, кто выступает за введение уголовной ответственности юридических лиц в России, соответственно, так и тех, кто выступает против этого. И в своем докладе мне хотелось бы кратко рассмотреть, во-первых, историю вопроса уголовной ответственности юридических лиц России в ее исторической ретроспективе, а также то, какие мнения на этот счет существуют среди ученых, юристов-практиков, представителей органов власти в России, ну и сделать краткие выводы. Так, среди ученых-правоведов и юристов-практиков нередко возникают споры относительно того, необходимо ли в принципе вводить уголовную ответственность юридических лиц в России, и каким образом ее можно было бы вписать в систему современного уголовного права Российской Федерации. Так какова же история ответственности юридических лиц в России? О коллективном субъекте впервые говорится еще про странные редакции «Русской правды». Такой исторический документ был. Далее, о коллективной ответственности военных организаций говорится и в воинском артикуле Петра I, входящем в состав воинского устава 1716 года. Теоретические же исследования данного вопроса появились уже во второй половине XIX века. В этот период наука уголовного права в России наиболее активно развивается, мы знаем. Стоит обратить внимание на точку зрения криминалиста Солнцева, который еще в начале XIX века написал о том, что под понятие преступления юридического лица можно подвести деятельность, подчеркну, отдельных составляющих его индивидов. Покровский, известный цивилист, не исключая уголовную ответственность юридических лиц, в 1917 году писал, что юридическое лицо представляет собой живое продолжение физических лиц, а воля и личность физических лиц как бы продолжает жить в создаваемых ими образованиях. Следующий этап истории нашей страны, занимающий период с 1917 года и до конца 1980-х годов, мы знаем, это период Советского Союза, Советик и Униона, он не оставляет нам каких-либо дискуссий по этому вопросу уголовной ответственности юридических лиц, поэтому, как и в правовой науке, решался он однозначно отрицательно. То есть причина тому довинирования, естественно, централизована плановой экономике, а не рыночной, что мы имеем сегодня, да, и, естественно, плановая экономика, она предполагает создание именно государственных юридических лиц. Однако до принятия Уголовного кодекса в 1996 году в России имели место дискуссии относительно уголовной ответственности юридических лиц. Так, например, в проектах этого Уголовного кодекса 1996 года содержались также и положения об уголовной ответственности юридических лиц. Были такие предложения. В основу такой ответственности была положена теория отождествления, как ее называли, и при этом предусматривались такие виды наказания, как штраф, запрет заниматься определенной деятельностью, ликвидация юридического лица. То есть вот очень схожа с современным, как мы видим. Статья 106 проекта Уголовного кодекса Российской Федерации 1994 года еще устанавливала возможность привлечения юридического лица к уголовной ответственности в следующих случаях. Во-первых, это неисполнение или ненадлежащее исполнение закона, устанавливающая обязанность и запрет на осуществление определенной деятельности. Второе, это осуществление деятельности, не соответствующей учредительным документам или объявленной цели. И третье, это совершение преступного деяния в интересах юридического лица, либо допущение, санкционирование, одобрение, использование органом или лицом, осуществляющие функции управления юридическим лицом. Ну и тем не менее, при принятии Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года указанные положения были исключены из его окончательного текста. Относительно вопроса самой сущности юридического лица в России существовало и на сегодняшний день существует тоже несколько самых разных позиций ученых. Как можно увидеть, с течением времени разные ученые-правоведы придерживались разных точек зрения и в качестве причин, влияющих на подобные теоретические взгляды, были и уровень экономического развития в целом, и какая экономика господствует в стране, как мы только что сказали, или рыночная, или плановая, естественно, какие-то политические, естественно, настроения, не без этого. Ну и понимание юридического лица, в принципе, как фикции или же социальной реальности. То есть от этого, естественно, тоже многое зависит, от этих теоретических основ понятия самого юридического лица. Тем не менее, необходимо ответить, что не только в Российской Федерации, но и во многих других странах вопрос уголовной ответственности юридических лиц и проблемы, которые возникают в связи с его реализацией, являются достаточно актуальными и, кроме того, еще и спорными. Естественно, необходимо здесь учитывать еще не только особенности материального права, но и особенности права процессуального. Как известно, в Российской Федерации уголовной ответственности подлежат только физические лица. Сегодня об этом было уже неоднократно сказано коллегами. Это предполагает статья 19 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, существующие современные теоретические подходы в России к такому явлению, как уголовная ответственность юридических лиц можно, наверное, условно объединить следующим образом. Тут мнения разделились. И первое, есть авторы, которые выступают за ведение уголовной ответственности юридических лиц. Следующие авторы выступают против ведения уголовной ответственности юридических лиц. И третье, есть такие авторы, которые предполагают некий компромиссный вариант. Естественно, при этом некоторые российские ученые ссылаются на опыт зарубежных стран, каким бы он ни был, на то, что именно куплен значительный опыт в противодействии таким явлениям, например, как коррупция, экологическая безопасность. Ну и тем не менее, как представляется для признания в России Института уголовной ответственности юридических лиц, все-таки необходимо преодолеть традиционное понимание виновной ответственности субъектов преступления. Коллега Ирина Туманова сегодня об этом как раз говорила. В 2011 году органами, представляющие интерес обвинения в России, был предложен некий проект федерального закона, который назывался «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением Института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». Так вот, согласно проекту, предлагалось дополнить раздел 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, который назывался «Иные меры уголовно-правового характера» главой 15.2 «Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц». В пояснительной записке к данному законопроекту его инициаторы отмечали, что якобы мировые стандарты противодействия преступности юридических лиц диктуют все же необходимость внедрения института ответственности юридических лиц за причастность к преступлению именно в уголовное законодательство. Однако, представляется, что вопрос об уголовной ответственности юридических лиц все-таки должен быть решен и с учетом принципов и положений именно законодательства национального, законодательства государства-участника. Так вот, согласно статье 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит только ввиняемое физическое лицо, достигшее соответствующего возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Таким образом, в России только физические лица могут быть субъектами уголовной ответственности по уголовному законодательству Российской Федерации. И получается так, что у России нет обязанностей по установлению уголовной ответственности для юридических лиц. Анализируя имеющиеся на сегодняшний день модели регулирования института уголовной ответственности юридических лиц, очевидно, что каждая из них имеет свои как плюсы, так и минусы. Концепция уголовной ответственности юридических лиц, ovviamente, e perspettivamente anche, in quanto riguarda effettività di борovo con alcune specifiche tipiche di преступления, come organizzazione, e non solo, ma invece, non bisogna, ovviamente, non vedere e tutta la difficoltà di rispettare questa problematica, come come a sconotitore, come a sconoprimenitettere, Grazie a tutti. 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 in questi strani sono stati malo, che dire, a un'unitore, o a un'unitore, o a un'unitore. Quindi, all'unitore delle persone suprime, sancioni, suprime e suprime. Quindi, pubblico-pralevolo, a unitorevolo, a unitorevolo, a unitorevolo, a unitorevolo, a unitorevolo, che è possibile solo in ramosco угolò e правa. E per quanto riguarda la responsabilità di compagnie in Russia, io adesso скажo anche un paro parole. Aspettivamente per la responsabilità della responsabilità della responsabilità di legge della responsabilità, che in generale hanno un'immaginato che hanno un'immaginato, come è un'immaginato. La questione è la possibilità di rispettare all'interno di rispettare e rispettare. e ciò può essere attraverso a responsabilità, anche senza vina. 401 st. 1079, 1095 st. St. Giuseppe Codice, abbiamo parlato di questo e ciò. Sredi meri per la responsabilità in Russia possiamo nazvare le precedenti. 1. Viziezione e ubidità, 15 st. 2. Viziezione e neustoi, a cui si tratta, 3. Pena, 330 st. 3. Viziezione e procenso per la utilità di chiudere. e compensazione morale. Grazie a tutti. 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 Come sappiamo un soggetto collettivo è indicato per la prima volta nell'ambito editoriale della verità russa. Inoltre la responsabilità collettiva delle organizzazioni militari è dichiarata nell'articolo militare di Pietro I che fa parte del trattato militare del 1716. Gli studi teorici di questo problema sono apparsi nella seconda metà del XIX secolo. Il fatto che l'attività economica in Russia nel XIX secolo non aveva bisogno di importanti concentrazioni di capitale. Tuttavia con lo sviluppo economico del paese e l'emergere del naturale bisogno di unire capitale e sforzi per l'attività economica. La visione teorica dell'essenza dell'entità giuridica cambia. Ora la prima unanimità è stata osservata in relazione al concetto di fiction di un'entità giuridica. Tuttavia vale la pena prestare attenzione al punto di vista del criminalista Sonza che era ancora all'inizio del XIX secolo che sotto il concetto di un crimine di un'entità giuridica le attività dei singoli individui che erano gli individui. Secondo Pachroski un noto civile senza escludere la responsabilità penale delle persone giuridiche nel 1917 ha scritto che un'entità giuridica rappresenta una continuazione vivente degli individui e la volontà e l'identità degli individui continuerebbero a vivere nelle formazioni create da loro. La prossima fase della storia del nostro paese che occupa il periodo dal 1917 alla fine degli anni Ottanta ancora periodo sovietico non ci lascia discussioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche perché nelle scienze giuridiche era decisamente di opposizione e il motivo di questo dominio di una pianificazione centralizzata e non un'economia di mercato con le sue entità legali statali. Tuttavia prima dell'adozione del codice penale della Federazione Russa nel 1996 vi è stata una discussione sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. Ad esempio nei progetti di questo codice penale contenevano anche proposte per la responsabilità penale delle persone giuridiche. La base di tale responsabilità è stata la teoria dell'identificazione mentre tali tipi di punizione erano previste come una multa, un divieto di una certa attività, la liquidazione di un'entità giuridica. L'articolo 106 del progetto penale della Federazione Russa ha stabilito la possibilità di attirare un'entità giuridica alla responsabilità penale nei seguenti casi. Primo, fallimento o esecuzione impropria della legge che stabilisce l'obbligo e il divieto sull'attuazione di determinate attività. Secondo, attuazione di attività che non soddisfano documenti costituenti o scopi dichiarati. Terzo, la commissione di un atto criminale nell'interesse di un'entità giuridica o della sua assunzione, autorizzazione, approvazione, l'uso del corpo o della persona che effettua la gestione dell'entità giuridica. Ciò nonostante, nell'adozione del codice pienale della Federazione Russa del 1996, tali disposizioni sono state escluse dal suo attesto finale. Per quanto riguarda la questione dell'essenza dell'entità giuridica in Russia, c'erano anche diverse posizioni di scienziati ad oggi. Come si può vedere nel tempo, diversi studiosi legali aderivano a diversi punti di vista. Il livello di sviluppo economico in generale è ciò che domina l'economia del paese, è un mercato o una pianificazione, una comprensione di un'entità giuridica come una funzione o una realtà sociale. Ciò nonostante, va notato che non solo nella Federazione Russa, ma in molti altri paesi, la questione della responsabilità criminale dell'entità giuridica e dei problemi che sorge in relazione alla sua attuazione sono piuttosto rilevanti e controversi, anche considerando entrambe le caratteristiche procedurali. Prospettive per l'introduzione della responsabilità penale delle persone giuridiche in Russia. Come è noto, solo gli individui esensi dell'articolo 19 del Codice Penale della Federazione Russa sono soggetti a responsabilità criminali nella Federazione Russa, esensi dell'articolo 19 del Codice Penale della Federazione Russa. Tuttavia i moderni approcci teorici esistenti in Russia a un tale fenomeno come responsabilità penale delle persone giuridiche possono essere consacrati come segue. Gli autori sostengono l'introduzione della responsabilità penale legalmente, gli autori si pongono all'introduzione della responsabilità penale delle entità giuridiche, gli autori offrono una certa opzione di compromesso. Alcuni scienziati russi si riferiscono all'esperienza dei paesi stranieri che hanno accumulato una notevole esperienza nel contrastare tali fenomeni come la corruzione e il crimine ambientale. Tuttavia per riconoscere in Russia l'istituzione della responsabilità penale delle persone giuridiche è necessario superare la comprensione tradizionale della responsabilità del colpevole e dell'argomento del crimine. Quindi si considera che i modelli per la regolazione della responsabilità penale delle persone giuridiche siano in generale. Sulla base dell'esperienza degli stati stranieri possiamo parlare di tre modelli di base di regolazione dell'istituzione della responsabilità penale delle entità giuridiche. Nel primo modello un'entità giuridica è considerata un'entità indipendente insieme a un individuo. Questo modello è caratteristico dei sistemi giuridici dei paesi di diritto comune come l'Inghilterra, la Scozia, gli Stati Uniti, Canada e tanti altri paesi e per alcuni paesi appartenenti alla famiglia di diritto romano tedesco come Austria, Belgio, Lussemburgo. Il modello specificato non può essere applicato alla federazione russa perché non corrisponde alla nostra legge penale tradizionale del concetto di responsabilità colpevole. Solo in presenza di colpa, atteggiamento cosciente dell'argomento dell'atto e delle sue conseguenze, l'atto acquisisce un vero pericolo pubblico. Il secondo modello di responsabilità penale delle persone giuridiche tiene conto del principio della responsabilità colpevole della persona per la commissione di un crimine. È più in base al riconoscimento di un individuo, è l'unico possibile argomento del crimine. Nel caso della partecipazione di un'entità giuridica in un... ...e secondo alcuni scienziati per il sistema legale russo questo modello è più preferibile, in quanto consente di affrontare efficacemente il reato di entità giuridica senza modificare l'attuale dottrina del diritto penale, che è più importante di altri sistemi di leggi criminali del mondo. È pieno del principio della responsabilità personale colpevole, tenendo conto del fatto che l'entità giuridica non è considerata oggetto di crimine. Di regola, conseguenze giudiziarie avverse le conseguenze della partecipazione al crimine non sono correlate all'istituzione di punizione criminale, ma ad altre misure di diritto penale. Secondo il terzo modello, un'entità giuridica è soggetta a responsabilità amministrativa per il coinvolgimento in un crimine. A volte questo modello è chiamato la responsabilità quasi responsabile delle entità giuridiche. È caratteristico dei paesi che occupano una posizione moderata per quanto riguarda le misure di impatto contro le entità giuridiche. Questo modello esiste attualmente in Germania e in Svezia. Si basa sulla legislazione della Russia. Nel Codice Penale della Federazione Russa non ci sono sanzioni per il coinvolgimento di un'entità giuridica per un crimine. Invece tali sanzioni sono contenute nella legislazione su reati amministrativi. Nel 2011 il Comitato per l'indagine della Federazione Russa ha proposto un progetto di legge federale sulle modifiche di alcuni atti legislativi della Federazione Russa in relazione all'introduzione dell'istituto di diritto penale sulle entità giuridiche. Secondo il progetto è stato proposto di integrare la sezione del Sesto Codice Penale della Federazione Russa altri procedimenti penali del capitolo 15.2 misure criminali contro le entità giuridiche. In una nota esplicativa di questo progetto di legge il Comitato d'indagine della Russia ha rilevato che gli standard mondiali di contrapposizione del reato di diritto giuridico dettano la necessità di introdurre l'istituzione di responsabilità delle persone giuridiche per il coinvolgimento in un crimine nel diritto penale. In particolare la Federazione Russa ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la Convenzione sulle corruzioni per la corruzione che prevedono l'obbligo degli stati che fanno parte e impongono responsabilità penale delle persone giuridiche per il coinvolgimento in alcuni tipi di crimini. Tuttavia sembra che la questione della responsabilità penale delle persone giuridiche debba essere risolta tenendo conto dei principi giuridici della legislazione nazionale da parte dello Stato. Al senso dell'articolo 19 del Codice Penale della Federazione Russa solo una persona naturale e sana che ha raggiunto l'età matura è soggetta a solo le persone... C'è qualche problema di connessione? Non si sente... La Russia... Sì, sì... No, no, non ti sentivamo più, c'è stato un problema di connessione, non si sentono più la voce. Mi sentite, hai detto? Adesso sì. Ok, purtroppo siamo su internet. Il comitato di indagine della Russia ha proposto di introdurre l'istituzione di impatto criminale giuridico su entità giuridiche, ma come se senza portare le responsabilità penali. Tuttavia, in realtà, il contenuto del progetto di legge e la nota esplicativa verso di esso è tale che è proprio sulla responsabilità penale delle entità giuridiche. Possiamo concludere che può essere effettuata sulla base dell'analisi del progetto di questa legge e della nota esplicativa di essa. Avendo considerato questi modelli per regolare l'istituzione della responsabilità penale delle persone giuridiche è ovvio che ognuno di essi possano avere i propri vantaggi e anche svantaggi. Il concetto di responsabilità penale delle entità giuridiche è possibile e promettente in termini di miglioramento dell'efficacia della lotta e una serie di tipi specifici di attività criminali, incluso il crimine organizzato. Ma allo stesso tempo è impossibile non vedere la complessità di risolvere questo problema sia sul livello legislativo che di applicazione della legge. Secondo la posizione della teoria generale della legge, l'entità giuridica è intesa come creazione artificiale della semplice finzione. Secondo questo concetto viene creata un'entità giuridica per uno scopo specifico e solo lo stato corrispondente alla legge può dargli la vita. Si può dire che un'entità giuridica non può agire senza la volontà delle persone, pur essendo un oggetto indipendente a relazioni legali. Ora è necessario dire alcune parole sulla colpa di un'entità giuridica. Ogni specialista che non supporta il concetto di responsabilità criminale delle persone giuridiche pone un'attenzione particolare e si rivolge al colpevole di un'entità giuridica. Essenzi dell'articolo 5 del codice penale della Federazione Russa, la responsabilità penale della persona viene solo per il crimine in cui è dimostrata la colpa. La colpa è l'atteggiamento mentale e del volto dell'esecuzione, in relazione al quale l'attività mentale di un'entità giuridica conferma il fenomeno irriconoscibile e irraggiungibile, poiché copre le parti della vita mentale di una persona, in particolare dell'individuo. Alcuni sostenitori dell'impatto della responsabilità penale delle persone giuridiche suggeriscono inoltre che il termine colpa ha un contenuto psicologico che non dovrebbe essere usato. Alcuni di loro offrono l'utilizzo del principio britannico di identificazione per quanto riguarda le sanzioni che dovrebbero essere applicate alle entità giuridiche le seguenti varietà sono proposte nel conto del titolo privazione del diritto di impegnarsi in attività specifiche chiusura dell'impresa di un'entità giuridica confisca della proprietà, pena locali per il controllo giudiziario liquidazione di un'entità legale ovviamente a seguito dell'uso di tali tipi di responsabilità ci saranno semplici dipendenti, lavoratori, partecipanti istituti di credito, di organizzazioni che non sapevano nemmeno e non potevano sapere della colpa del crimine inoltre non dimentichiamo la responsabilità delle entità giuridiche sancite nel codice civile della federazione russa e del codice dei reati amministrativi della medesima ai sensi dell'articolo 3.2 del codice dei reati amministrativi della federazione russa le seguenti sanzioni possono essere applicate alle entità giuridiche avvertimento, penalità amministrativa confisca dello strumento oggetto di reato amministrativo sospensione amministrativa delle attività riferendosi all'esperienza dei paesi stranieri è necessario prestare attenzione alle seguenti l'istituzione della responsabilità amministrativa sviluppata e utilizzata in Russia è assente in alcuni paesi di diritto comune in paesi attribuibili a una famiglia continentale di diritto in cui la responsabilità penale delle persone giuridiche esiste già il fatto che in Russia è denominata la responsabilità amministrativa si riferisce alla cosiddetta legge penale piccola o alla responsabilità penale delle entità giuridiche che sono i crimini minori pertanto l'impatto giuridico pubblico su entità giuridiche che hanno commesso reati in tali condizioni sono possibili solo nel quadro della legge penale per quanto riguarda la responsabilità civile delle aziende in Russia si dovrebbe dire che la base dell'inizio della responsabilità civile delle persone giuridiche è una violazione dei diritti civili che sono principalmente trasportati dalla proprietà tale responsabilità avviene durante la conformità con le seguenti condizioni comportamento anti-influente la presenza di danni clausa prima dell'articolo 15 paragrafo primo dell'articolo 393 paragrafo primo dell'articolo 1064 del codice civile della federazione russa relazione causale tra violazione e problemi di perdita colpe dell'intruso sotto forma di intento o negligenza in alcuni casi un'entità giuridica può essere perseguita senza la propria colpa secondo il paragrafo 3 dell'articolo 401 e il paragrafo 1 dell'articolo 1079 e l'articolo 1095 del codice civile tra le misure di responsabilità civile possono essere definite le seguenti misure in Russia i danni secondo l'articolo 15 del codice civile della federazione russa la penalità di rigore dell'articolo 330 del codice civile della federazione russa recupero degli interessi per l'uso del denaro articolo 395 del codice civile della federazione russa compensazione dei danni morali articolo 151 1099 1101 del codice civile della federazione russa per quanto riguarda la procedura per attirare la responsabilità questa procedura implica un appello per la tutela del diritto violato o sfidato al convenuto che è un'entità giuridica secondo le norme di reclamo formulate nel codice di procedura civile della Russia e del codice di procedura arbitrale a seconda dell'entità della circolazione e della natura dei requisiti quindi ai sensi dell'articolo 56 del codice civile della Russia l'entità giuridica è responsabile dei suoi obblighi a tutti gli appartenenti ad esso a seguito delle disposizioni dell'articolo 53 del codice civile della federazione russa la persona che in virtù della legge d'altro altro giuridico o il documento costituente dell'entità giuridica è autorizzata a parlare a suo nome è obbligato a compensare la richiesta di un'entità giuridica i suoi fondatori sono obbligati a dichiarare nell'interesse di un'entità giuridica e sulle perdite causate a causa della colpa di un'entità giuridica una persona che ha avuto l'opportunità di determinare le azioni di un'entità giuridica inclusa la possibilità di dare istruzioni alle persone sovramenzionate è obbligata ad agire nell'interesse di un'entità giuridica saggiamente e coscienziosamente ed è responsabile delle perdite causate dal proprio danno a un'entità legale inoltre secondo la seconda parte dell'articolo 61 del codice civile della federazione russa un'entità giuridica può essere liquidata dalla decisione della corte in caso di gravi violazioni della legge è approvata quando viene creata se queste violazioni sono irreparabili o a effettuare attività senza adeguato permesso o licenza è proibito dalla legge ed è una violazione della costituzione della federazione russa e con altre violazioni ripetute di questa legge e di altri atti giuridici o con un'implementazione sistematica di un'organizzazione senza scopo di lucro compresa un'organizzazione pubblica o religiosa un fondo caritatevole o di altro tipo contrario ai suoi obiettivi statutari nonché in altri casi previsti dal presente codice se parliamo della base della responsabilità dell'entità giuridica per la violazione degli obblighi russi all'articolo 401 del codice civile della federazione russa prevede che una persona che non ha soddisfatto i suoi obblighi o ha soddisfatto la sua presenza è responsabile se la presenza della colpa intenzione o negligenza tale persona è riconosciuta come innocente se con tale grado di rilevo e diligenza che di essere richiesto dalla natura degli obblighi e dei termini di fatturato ha adottato tutte le misure per il corretto adempimento dell'obbligo l'assenza di colpa dimostrata da una persona che ha che non ha violato l'obbligo secondo l'articolo 2.1 del codice dei reati amministrativi della federazione russa in Russia un reato amministrativo riconosce l'effetto legale colpevole di una persona fisica o giuridica per la responsabilità amministrativa delle entità costituenti della federazione russa amministrativa e in tal caso i reati sono stabiliti pertanto un'entità giuridica della legge amministrativa in contrasto con il diritto penale è riconosciuta come oggetto di responsabilità la composizione dell'offesa amministrativa allo stesso tempo è identica alla composizione del crimine e la differenza è il grado del pericolo pubblico di atti perfetti pertanto la struttura legale dell'offesa amministrativa nella federazione russa rappresenta la combinazione di quattro elementi un oggetto di invasione illegale il suo soggetto in questo caso la persona giuridica il contenuto del reato lato oggettivo stato psico emotivo dei suoi partecipanti l'assenza di uno di esse elimina sia la presenza della composizione nel suo complesso che di conseguenza l'uso della coercizione statale misura a faccia può essere aggiunto che recentemente nelle attività del legislatore federale vi è stata la tendenza ad espandere la gamma di relazioni sociali protette dalle misure di responsabilità amministrativa nonché al significato stretto delle sanzioni amministrative in particolare ad un aumento della dimensione della sanzione amministrativa per la commissione di alcuni tipi di reati amministrativi con entità giuridica terminata io passerai alle conclusioni conclusioni e generalizzazioni l'argomento principale di coloro che competono per la creazione di responsabilità penale delle persone giuridiche dovute alle loro attività e lecite si balsano sul fatto che le norme di altre filiali sono insufficienti nella lotta contro il combattimento delle attività illegali di questo tipo di entità giuridica sembra che tale approccio sia un po' primitivo e semplificato ignora e anche sottovaluta artificialmente il valore sociale significato e l'efficacia degli standard amministrativi e di diritto civile la possibilità di diritto amministrativo e civile soprattutto tale soluzione alla questione a nostro avviso piuttosto controversa nelle condizioni di un'economia di mercato in cui le leve economiche dell'impatto giuridico sull'entità giuridica come l'autore del reato siano piuttosto tangibili ed efficaci naturalmente anche la responsabilità civile di un'entità giuridica non esclude la responsabilità criminale del capo di questa entità è anche possibile in combinazione con la responsabilità civile ad esempio una causa civile in precedenti penali e ciò richiede una revisione fondamentale dei concetti fondamentali categorie istituzioni di diritto penale come rami indipendenti della legislazione dei diritti russi e inoltre i cambiamenti della legislazione penale la pratica legislativa nazionale della Russia suggerisce in modo convincente che la legge penale spesso erroneamente considerata come l'unico e più coordinale dei mezzi per risolvere tutti i problemi finito ultimissima parte sì e che voglio rispettare comunque tutte le informazioni della nostra avvocata di San Pietro prima di tutto vogliamo prestare la nostra attenzione a quali conseguenze i risultati condurranno un romanzo simile che in realtà e come sarà questa responsabilità su tali misure saranno influenzate positivamente eh all'economia russa grazie a tutti per la vostra attenzione chiedo scusa ma erano veramente tantissime informazioni quindi ho cercato ovviamente di sintetizzare ma insomma non è stato poi hai fatto un ottimo lavoro grazie hai fatto un ottimo lavoro Antonella grazie bene cari colleghi ci abbiamo alla conclusione di questo di questa videoconferenza quindi cedo la parola all'ultimo relatore il dottor Claudio Gugliotti tuttore della materia di diritto penale presso l'università di Bari prego dottor Gugliotti sì grazie presidente buonasera a tutti Dobri Vieter Rassilski Kalleg dunque prima per quanto riguarda il sistema normativo italiano prima dell'entrata in vigore della legge 231 del 2001 non vi era una legge appunto un sistema normativo che disciplinasse la responsabilità per le imprese questa questa legge ha introdotto diciamo la questione della responsabilità delle imprese andando proprio al cuore del problema al succo del discorso c'è da dire che la responsabilità d'impresa si basa su un principio fondamentale è questo su cui nasce diciamo è questo su cui nasce questa materia l'interesse è o il vantaggio per la stessa impresa questa è la base il concetto di interesse di vantaggio è la base è il cuore della questione cosa si intende per interesse e vantaggio non sono la stessa cosa ora ovviamente questi vanno considerati in termini di risultato conseguito non per la finalità dell'azione infatti per diciamo il vantaggio è valutabile diciamo solo dopo che il che il reato sia stato portato a termine a compimento mentre l'interesse sarebbe rappresenterebbe l'indebito arricchimento per la stessa impresa quindi su questo ci dobbiamo praticamente basare quando parliamo di questa legge della responsabilità penale di impresa faccio alcuni esempi pratici prendo due politiche pubbliche come riferimento quella ambientale è quella dell'edilizia delle costruzioni bene nell'ambito del diritto penale dell'ambiente ad esempio per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti o lo smaltimento delle acque c'è una procedura standard che è prevista dal codice ambientale porta ad esempio dalla produzione alla consumazione diciamo così del del rifiuto c'è un percorso c'è una procedura che prevede come risultato finale la il pagamento di faccio un esempio di centomila euro per per l'impresa che sta smaltendo questi rifiuti se l'impresa anziché smaltire legalmente secondo procedura secondo il testo unico ambientale smaltisce invece illecitamente quindi non spende più attenzione questo è il punto non spende più centomila euro ma ne spende settanta quei trentamila euro di differenza che avrebbe dovuto spendere per il corretto smaltimento di rifiuti restano rimangono nelle casse dell'ente ok così come nell'ambito della diciamo della questione edile delle costruzioni sentiamo purtroppo tante volte che opere anche di giovane costruzione diciamo così sono addirittura crollati o non diciamo non hanno portato risultati previsti perché è stato usato tante volte del materiale scadente quindi l'impresa anziché spendere anche qui questo secondo esempio pratico anziché spendere dico numeri cinquantamila euro ha speso ne ha spesi trenta quei ventimila euro di differenza sono rimaste nelle casse dell'ente così come diciamo di questi esempi ne potremmo fare tanti tantissimi ed è per questo che come diciamo ha giustamente accennato prima il collega avvocato Altamura è importantissimo il cosiddetto modello modello che deve obbligatoriamente prevedere tutte le fasi e le procedure per evitare che ciò avvenga qui diciamo da qui ci ricolleghiamo al discorso sanzionatorio il sistema sanzionatorio è un sistema dato dall'articolo 9 della legge 231 un sistema abbastanza forte duro insomma non è bello andare incontro a queste sanzioni esattamente quattro ci sono quattro diverse sanzioni che costituiscono il sistema sanzionatorio abbiamo la sanzione pecuniaria la sanzione interdittiva la misura interdittiva la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca per quanto riguarda le misure interdittive così come più o meno ehm previste dal codice russo eh come ha anche giustamente è chiaramente riportato la collega Martinkovic Marina ehm diciamo la pubblicazione via ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione così come eh con le altre imprese poi abbiamo la pubblicazione della sentenza di condanna ed è anche una cosa non proprio bella perché nelle bacheche dei tribunali viene resa pubblica la notizia che l'impresa X è eh portata diciamo anche al fallimento il eh la confisca invece è eh diciamo quella per eccezione diciamo la confisca ehm è l'ultima delle quattro misure e eh si arriva proprio quando viene a seguito di sentenza di condanna eh i beni vengono tolti da chi li deteneva è passati allo Stato questa è la confisca addirittura come parliamo di imprese di imprese quindi tante volte come anche ha giustamente detto il collega eh Leo l'avvocato Leo eh vista anche la presenza di infiltrazioni criminali infiltrazioni mafiose nelle varie imprese si parlerebbe in questo caso di anche eh di ehm confisca antimafia o confisca allargata data eh diciamo la presenza di queste infiltrazioni criminali mentre il primo eh più diciamo alla portata diciamo così infatti la prima come? no 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 è andato via l'audio va bene va bene infatti la prima la sanzione pecuniaria qui abbiamo un sistema diverso nel senso che è presente il cosiddetto sistema delle quote sistema delle quote va da un numero minimo di cento un numero massimo di mille dove ogni quota ha un valore di circa duecentocinquantotto euro fino a mille cinquecentocinquanta euro quindi andremmo da un minimo di ventotto mille cinquecento euro a un milione e mezzo di euro questo lo decide il diciamo la pena erogata in questo senso è il valore di ogni singola quota e rispetto al numero delle quote viene deciso dal giudice e solo dal giudice tenendo presente quattro elementi importanti la condotta tenuta dalla dall'impresa dall'ente anche durante e posta la commissione del reato le condizioni sociali economiche diciamo in cui si trova l'impresa il motivo perché l'ha fatto il movente e infine se ha avuto precedenti penali e o giudiziari quindi fatta diciamo così questa avendo messo in risalto appunto quelli che sono gli elementi fondamentali su cui appunto si basa questa importante materia nella legislazione italiana c'è da dire anche che anche il sistema russo giustamente non è stato fermo la Russia ovviamente nel corso degli anni è diventata come sappiamo una potenza oltre che politica anche militare economica soprattutto quindi le imprese hanno giustamente preso diciamo preso notevole importanza ora mi avvio diciamo alla seconda parte anche per questioni di tempo avviandomi alla seconda parte del discorso entro proprio nel merito delle differenze sostanziali tra il sistema italiano e il sistema russo allora primo punto abbiamo detto che nel sistema italiano esiste il principio fondamentale e basilare dell'interesse e o vantaggio per le imprese questo nel sistema russo non c'è primo secondo il sistema italiano si basa solo sulle imprese e non a tutti gli enti collettivi infatti sono esclusi lo Stato le regioni le province comuni le ASL le università gli istituti di ricerca ma solo le imprese e anche le società a partecipazione pubblica che vengono privatizzate come ad esempio l'ENI in Italia l'internazionale idrocarburi mentre nel sistema russo seconda seconda differenza riguarda invece tutta la pubblica amministrazione e non solo invece le singole società i singoli enti terzo punto nel sistema italiano c'è e anche in modo fondamentale obbligatorio la figura centrale della società dell'ente mentre nel sistema russo l'ente non è diciamo non si basa su su dei codici sul codice illecito amministrativo fa riferimento come una sorta diciamo di illeciti civili e o amministrativi non fa riferimento esplicitamente al ruolo e al punto della società dell'ente quarto punto nel sistema italiano il modello quello a cui ha fatto riferimento il collega prima è l'elemento fondamentale cosiddetto modello 231 dove vengono chiaramente esplicitamente riportate tutte le procedure che l'azienda che l'impresa che l'ente deve seguire per poter evitare di commettere reati mentre nel sistema russo c'è una sorta diciamo così tra virgolette di rimprovero per l'ente per la violazione del precetto per aver violato la norma questa è la quarta fondamentale distinzione nella quinta invece invece vi è una certa diciamo così similitudine in quanto come abbiamo visto come abbiamo detto nel sistema italiano c'è la confisca la sanzione pecuniaria il divieto di contrarre con altre pubbliche amministrazioni e altre aziende così come c'è anche nel sistema russo come hanno detto le due colleghe anche prima c'è nei confronti della persona fisica che l'ha commesso però non tanto nei confronti della società c'è il procedimento penale così come delle sanzioni di carattere fiscale che poi sono anche molto importanti anche dal punto di vista del lavoro bene io sono entrato nel nel merito diciamo della questione delle distinzioni fondamentali tra il sistema italiano e il sistema russo ho riportato quello che è l'elemento fondamentale che è l'interesse il vantaggio per l'impresa facendo alcuni esempi pratici e riportando il sistema sanzionatorio che poi è quello che all'impresa alla persona giuridica occorre sapere in porta per poter diciamo evitare che questi reati vengano commessi vengono posti in essere Presidente io con questo ho chiuso concluso quindi possiamo dire che in Russia una vera e propria responsabilità penale di questi enti giuridici delle associazioni non c'è è più una responsabilità civile amministrativa sì civile amministrativa non c'è esplicitamente abbastanza serio sì abbastanza grave come abbastanza grave responsabilità amministrativa abbiamo sì certo sì non c'è la responsabilità amministrativa in senso stretto come c'è in Italia c'è la violazione dal punto di vista civile e amministrativo che verrebbe comunque equiparata a quella penale italiana diciamo che come ho detto prima come quinto aspetto diciamo c'è comunque una certa similitudine tra il sistema italiano e il sistema russo però solo per questo ultimo aspetto per questo va benissimo bene siamo arrivati al termine di questo di questa videoconferenza di questo webinar e io spero che agli spettatori ai nostri colleghi che ci hanno seguito sia comunque risultato gradito che comunque abbiamo cominciato un po' a prendere confidenza i russi hanno conosciuto un po' meglio il diritto italiano e noi abbiamo cominciato a prendere degli elementi delle fondamenta del diritto russo se qualcosa non è andato perfetto non vogliate ce n'è stato già realizzare questo questo webinar questa videoconferenza quindi questo è differente dai soliti webinar che solitamente si organizzano perché qui è fra stati diversi fra relatori di diversa lingua di diversa cultura quindi siate diciamo comprensivi speriamo di migliorare di migliorare prossimamente io voglio per tanto ringraziare innanzitutto il presidente dell'ordine degli avvocati di Foggia l'avvocato Gianluca Cursitti poi l'avvocato Vito Antonio Altamura l'avvocato Luigi Leo l'avvocatessa Irina Tumanova l'avvocatessa Marina Martinkiewicz e il dottor Claudio Gugliotti per la loro partecipazione per la loro chiarezza nella esposizione dei dei loro concetti ripeto il tutto in lingua russa per salutare gli amici i colleghi russi дорогие друзья я надеюсь che questa конфerencia прошuла успешно e che che vi ottenete l'avvocato di seguire questo webinario è l'avvocato che organiziamo questo webinario e quindi non dovete sottolineare questa organizazione io spero che in futuro possiamo ancora сотрудnich e possiamo лично встретиться пожелare вам успех крепкого здоровья это никогда не мешает в современных условиях тем более важно всего самого доброго благодарю вас за внимание всего вам доброго удачи вам до свидания bene carissimi amici ho concluso non so se le colleghe russe vogliono aggiungere qualcosa Marina ti concesse говорить c'è tutto io chcę поблагодарir c'è ancora ringrazzare tutti colleghi italiani colleghi russi per questo convenio molto importante per prima volta очень важное e la per vo raza interesse tema molto interessante vostra tema questa convenia anche molto importante per diritto italiano per diritto russo e ancora grazie spasiva tibie irina ti c'è gavarita stota pronto irina ti nasviasi no va bene non 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 c'è più mi dispiace che non abbia parlato il presidente delle avvocate di san pietroburgo l'avevo visto proprio mentre stava parlando l'avvocato altamura poi è andato via sarà per la prossima volta comunque ringraziamo tutti da sfidania arrivederci a tutti arrivederci buonasera 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 a tutti buonasera